Salve a tutti e benvenuti su questo nuovo video. Oggi parleremo di una situazione recente che ha coinvolto la premier Giorgia Meloni. Come molti di voi sapranno, Giorgia Meloni ha dovuto affrontare un imprevisto legato alla sua salute che la costretta a rinviare la conferenza stampa di fine anno per la seconda volta nella sua carriera politica. Secondo quanto riportato, un problema legato agli otoliti la costretta a restare a letto in condizioni di oscurità per diversi giorni. Questo inconveniente ha portato al rinvio della conferenza, inizialmente prevista per il 28 dicembre. Al 4 gennaio. Si è parlato di una sindrome otolitica e dell'intervento di un otorino che ha lavorato per risolvere questa situazione. Tuttavia, la premier sembra essere in fase di miglioramento. Stando a quanto comunicato dai suoi collaboratori. Questa circostanza ha suscitato l'attenzione anche per il contesto in cui si è verificata, ossia il periodo delle festività natalizie trascorse a Milano, dove Giorgia Meloni ha trascorso del tempo con sua figlia a Ginevra presso i nonni paterni.Interessante è notare i rapporti che sembrano essere migliorati tra Meloni e il suo ex compagno, Andrea Giambruno, con cui sembrano mantenere un rapporto cordiale soprattutto per il bene della loro figlia a Ginevra.La presenza di Giambruno in diversi eventi recenti, come la recita di Natale di Ginevra e alcuni incontri politici, ha suscitato l'attenzione dei media. Alimentando ipotesi e discussioni sulle dinamiche personali e familiari della premier.Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi riguardanti questa situazione. Continuate a seguirci per le ultime notizie e aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima.